Ciao bambini e benvenuti alla seconda parte della lezione sull'albero amico. In questa lezione noi costruiremo o disegneremo un albero. Quindi, se volete disegnarlo, dovete procurarvi un foglio di carta, dei pastelli o dei pennarelli, dei colori, insomma. Ci serviranno soprattutto i colori, diciamo, del bosco, quindi i marroni e i verdi. E se invece volete costruire un albero, vi serviranno legnetti e foglie fatte seccare belle piatte tra i giornali. Naturalmente potete fare tutte e due le cose. Prima lo disegniamo assieme e poi lo costruite usando il materiale naturale. Ma cominciamo con l'osservare com'è fatto un albero. Quindi un albero ha un bel tronco, il tronco si divide in tanti rami e sopra i rami c'è una bella chioma di foglie. Partiamo dal tronco e quindi disegniamolo sul nostro foglio. Il tronco è grosso e robusto. Osservatelo rispetto ai rami. È molto... di dimensioni molto maggiori. Perché il tronco deve essere così grosso? Ecco, se volete poi farlo con materiale naturale, potete mettere accanto, incollare uno accanto all'altro, tanti stecchini piccolini. Stavamo dicendo, perché il tronco deve essere grosso? Perché è come un forzuto, un forzuto che deve tenere su un enorme peso. Tutta la chioma, tutti quegli rami, tutte quelle foglie pesano tantissimo. E quindi un tronco esile, magrolino, non avrebbe la forza per sostenere tutto quello che c'è sopra. Osserviamo ancora il nostro albero. Dal tronco si dipartono i rami. E i rami, vedete, prima sono grandi, di grandi dimensioni. E poi, man mano che si va verso l'alto e verso l'esterno, diventano sempre più sottili. Disegniamo anche noi i nostri rami. Prima quelli più grossi, e poi quelli più sottili. Se, quando costruirete l'albero con il materiale vero, anche lì, utilizzerete dei rametti tagliati appositamente e li incollate in questa maniera, per fare i rami che si dividono, vedete? Si dividono man mano che crescono. Perché servono i rami? Perché ci vogliono tutti questi rami? Ma per avere posto per tante foglie. Se ci fosse un solo ramo, le foglie sarebbero pochissime sull'albero. Quindi più rami vuol dire più foglie. E infatti, vedete, le foglie sull'albero sono tantissime. E portate soprattutto dai rami più sottili. Quindi aggiungiamo le foglie al nostro albero. Eccole qua. A cosa servono le foglie? Le foglie servono per far respirare l'albero. Sono come nasi, tanti nasi. Ci sono anche dei buchini, eh? Ma sono così piccoli che a occhio nudo noi non riusciamo a vederli. Ci vuole il microscopio. Ed è proprio dalle foglie che l'albero ci regala l'ossigeno. Quindi non strappate le foglie a un albero, ricordatevi! Se no, non può più darvi le foglie e l'albero non può più respirare. E se stiamo costruendo un albero naturale fatto con materiale raccolto, possiamo incollare tante piccole foglioline sui rami. E ricordarci, se volete, se volete potete anche aggiungere, disegnate, le palline dell'ossigeno per ricordarci di questo importante regalo. Continuiamo ad osservare il nostro albero. Oltre alle foglie, io vedo qualcos'altro. Vedete queste cose di un colore un po' più giallino? Sono i frutti di questo albero. E li aggiungeremo anche al nostro. Siccome io ho scelto di fare un albero del bosco, ho messo le ghiande, anche se queste non sono proprio le foglie della quercia. E potete scegliere invece voi di fare altri frutti. Ricordatevi però che i frutti vengono solo dove prima ci sono stati dei fiori. Quindi sui rami crescono prima i fiori e poi i fiori si trasformano in frutti. Perché l'albero o le piante hanno i frutti? Beh, tantissimi animali se ne cibano. Ma non è per questo principalmente che l'albero fa i frutti con dentro i semi. Beh, il frutto sì, magari lo fa per cibare l'albero. Ma dentro c'è un semino che è molto importante. E' importante che cada per terra perché da lì nascerà una piantina nuova. Se volete, state costruendo un albero fatto con materiale naturale, magari in giardino avete un bell'albero, un gespuglio che fa le bacche, potete staccarne qualcuna e incollarla per decorare il vostro albero fatto di materiale naturale. Non dimenticate di farne cadere una per terra e di attaccare un rametto e qualche fogliolina per ricordarci che i frutti con dentro i semini sono importantissimi per far crescere una nuova piantina. L'albero sembra finito qua, sembra che non ci sia nient'altro. Ma in realtà è perché una parte dell'albero sta sottoterra e noi non la vediamo. Questa parte dell'albero si chiamano radici. E assomigliano un po' ai rami, vedete? Partono singole e abbastanza grosse spesse e poi si dividono pian piano in radici sempre più piccole. Perché l'albero ha le radici? Beh, sono come tante manine che servono per aggrapparsi saldamente al terreno. Se no, un qualsiasi soffio di vento lo farebbe cadere il nostro albero. Ma hanno anche un'altra importantissima funzione. Sono come tante cannucce che servono per bere l'acqua. Assorbono l'acqua dal terreno. E poi dalle radici quest'acqua arriva a tutte le parti dell'albero, soprattutto alle foglie e ai frutti. Per terminare, decoriamo il nostro albero con foglie secche per terra. Perché se andiamo nel bosco, le foglie secche per terra non mancano mai. E sono importanti anche quelle. Quindi le foglie sono importanti da vive, da fresche, perché fanno respirare l'albero. E una volta che sono secche per terra, faranno una protezione, una copertina, che protegge gli animali, servono per proteggere gli animali del bosco, soprattutto quelli che poi hanno una tanna sottoterra e si trascinano sotto un po' di foglie, ma servono anche per proteggere le radici degli alberi, degli alberelli, soprattutto dal gelo. Sono proprio come una coperta. Ecco qua il nostro albero fatto di materiali naturali, anche qua possiamo aggiungere le radici. Ricordiamoci che assomigliano un po' ai rami, ma vanno all'ingiù invece che all'insù. Ed ora è arrivato il momento di prendere i disegni che abbiamo fatto. Se non li avete ancora fatti, mettete in pausa questa video-lezione e disegnateli adesso, potete ricopiare tranquillamente da queste immagini. Sceglietene almeno tre o quattro e quando siete pronti, continuiamo e mettiamo i vostri animali ad abitare sull'albero che abbiamo disegnato o costruito. Siete pronti? Ecco qua, questo è il nostro albero e adesso ci aggiungeremo gli animali. Ne metteremo qualcuno sulla chioma dell'albero, come il pettirosso, il gufo e lo scoiattolo. Se avete disegnato il picchio, potete metterlo sul tronco mentre scava la sua casetta. Il capriolo, le formichine, il riccio, la rana, potete metterli per terra che saltellano o se ne vanno in giro. Il bruco lo metteremo su una fogliolina. Farfalle e api li faremo svolazzare intorno alle piante. La volpe potete scegliere se metterla sul terreno, come il capriolo, oppure sottoterra perché è lì che ha la sua tana. Potete aggiungere anche altri animali. Io ho scelto di mettere questi. Potete mettere tutti gli animali che sapete abitano nel bosco. Quindi il bosco è importantissimo. E siamo arrivati anche alla fine di questa video-lezione. Perciò, ciao bambini, spero che vi siate divertiti con me. Grazie.